Come si chiama? Mauro Rapatti E quanti anni ha? 82 Qual è stata la prima volta che si è avvicinato al mondo dei Sinti, qui a Prato? Venne un sacerdote di Lucca Come si chiamava questo? Don Franco Baroni Che lui aveva già le scuole a Lucca Che scuole? Le scuole lasciodrome Che scuole erano le lasciodrome? Le scuole lasciodrome erano scuole per zingari, scuole speciali Per zingari? Per zingari Che praticamente erano nate in Alt'Italia verso Frento Da un sacerdote e da una maestra Si ricorda i nomi? Si Bruno Niccolini, sacerdote Si E Carpati Mirella, la maestra Dette l'origine Queste scuole piano piano si estesero dal nord Scesero anche giù a Reggio Emilia C'era Don Luigi Un prete meraviglioso che di zingari ricordano ancora Cosa significa l'aciodrome? Eh? L'aciodrome, cosa significa? Buona strada Buon cammino Chi scelse questo nome? Ma Quello che c'è di bello E' che loro sono sempre in cammino E credo che sia un augurio a cui tengono Perché vogliono camminare Io sono convinto che se anche l'esperienza di Prato fosse stata mantenuta e non fosse stata bloccata dalla legge che eliminava le scuole speciali Sì Avrebbe avuto un successo meraviglioso E per me è quello giusto l'unica strada da fare Perché secondo lei avrebbe avuto un successo? Quali erano questi requisiti positivi di queste classi speciali? Queste classi speciali era intanto il ragazzo era considerato il massimo, erano soltanto loro E quindi erano solo frequentate da bambini sinti? Sì, e con un insegnante scelta in questo caso da me qui a Prato Con l'autorizzazione e la supervisione del proprietore Si ricorda qualche nome di insegnante? Sì La prima fu la Grazia Biancalani Sì No, Grazia, i primi sposati a Biancalani Sì Poi Dario Guastini Sì Poi ci sono state altre che purtroppo ho dimenticato Ok, queste erano le principali? Sì, le principali, sì Perché dopo piano piano si avvicinarono sempre di più alle scuole normali E quindi scomparvero scuole speciali e le insegnanti Lei mi stava dicendo che erano positive perché erano frequentate solo? Da loro E poi non c'era il confronto con i ragazzi non zingari Perché questo è un problema Perché è un problema? È un problema perché il ragazzo viene preso da un mondo E portato direttamente o in un mondo diverso Oppure veniva portato così come era E quindi con tutte le sue problematiche igieniche Vestiario, mangiare, comportamento Il ragazzo zingaro è un ragazzo libero Cosa significa libero? Non sa stare dentro delle regole E anche nel mondo zingaro Il ragazzo veramente è al massimo dell'attenzione della gente Sembra il contrario Ma invece il bambino zingaro è seguito da tutti i clan Non è seguito soltanto dai babbi e dalla mamma Quando mancano loro finito tutto Invece no Tutto il clan è Però ecco Il ragazzo ha bisogno di avere un mondo Che conosce E da cui è conosciuto E quindi l'interazione possibile con altri bambini Gaji Non poteva essere utile? Non poteva essere Perché il bambino Gaji È un bambino già educato A pensarlo in un certo modo Mentre il bambino zingaro è un bambino libero Deve osservare certi presupposti Il rispetto verso gli anziani Il rispetto verso gli invalidi O indicappati eccetera Il ragazzo zingaro è estremamente educato a questo Mentre il bambino Gaji è un bambino Che parte da dei presupposti È uno zingaro quindi via È un bambino attivo È un bambino sport È un bambino Che non va seguito Va allontanato Questo purtroppo È un grosso problema Che si è rivelato in seguito Quando sono state eliminate le scuole speciali E si è dato adito all'inserimento totale Dei bambini zingari E che problemi sono subentrati? Nel momento in cui i bambini sinti Sono entrati in contatto con i bambini gatti? La prima cosa è i ceni Qual era la situazione? Che problematiche c'erano? Come fanno i ragazzi a lavarsi e venire a scuola? L'uso dell'acqua È una conquista Anche per noi gatti Tanto più per un ragazzo è una scoperta E quindi Ecco se a un certo punto Non c'è un'attenzione A queste problematiche qui Il ragazzo si sente Direi condannato Non si sente accolto Questo è il grosso problema E piano piano il ragazzo Quindi lei ritiene che le lacciodrome Erano quasi un meccanismo per proteggere i simili? Per me era una metodologia didattica Sì? In che cosa consistiva questa metodologia didattica? In prima cosa si andava a prenderli a casa E si riportavano a casa Come andavate a prenderli? Noi avevamo inizialmente una macchina Una 600 multipla Sì E poi si è preso un 238 della Fiat Sì Nuovo E si faceva il giro di tutta Prato e dintorni Sì Quindi praticamente si andava all'accampamento Sì E si prendeva le gatti I genitori ci conoscevano Andava sempre soliti Si andava a prendere agli accampamenti I genitori conoscevano noi E in qualche modo anche la potenza che noi avevamo di fronte all'autorità della polizia In che senso? Mi puoi spiegare bene questa cosa? Sì Questo Cioè Prato Io parlo di Prato Logicamente Prato Sapeva onde vivere questo progetto E nello stesso tempo sapeva anche direi Imporsi E imporci Per cui noi Potevamo dire Quelli non ci mandano ragazzi Fatevi vedere E loro si facevano vedere Se poi proseguivano a non mandarli Eravano anche disposti a mandarli via Ma quindi c'era un accordo fra voi e la polizia locale? Sì Con noi E fra noi La polizia Ma è capitava che le persone poi venivano allontanate Perché non mandavano i bambini? Sì Capitava Inizialmente sì Poi no Dopo quando Eravate voi ad avvisare la polizia? Sì Ma non perché Ma ti mandavano via Può stare qui Però qui si manda più alla scuola Per uno zingaro è difficile Levarsi una mano Che lavora Però lei mi ha detto che quando arrivavate con la vostra Fiat Prendavate i bambini Quindi ve li lasciavano i genitori? Ce le facevano Ce le davano E cercavano anche per quanto era possibile con il tempo piano piano Perché noi avevamo ottenuto dall'autorità scolastica La mensa Mangiavano Lo zingaro di che cosa vive D'altra parte il lavoro non ce l'hanno Perché non avevano un lavoro? Non è Non si fa la sveglia a dire Vadano a lavorare Io ricordo Eravamo insieme Io Un giornalista Che ci è stato molto vicino E' Umberto Cecchi Della Nazione E' un industriale E si parlò proprio di questo discorso qui E si arrivò addirittura A fare una sfida Cioè? Io porto le ragazze a scuola Se vuoi mi date un ambiente Io porto le ragazze a lavorare Se vuoi mi date un ambiente A scuola ci riportavo E l'ambiente qual era? Era questa Loro diceva no te non ce la fai No io ce la faccio a portarli E l'industriale mi dette anche addirittura Fu un lagerone Mi dette addirittura un ambiente Estremamente ridotto male Un ambiente ma per la scuola giusto? No per la cosa Per lavorare Per mettere su un laboratorio Soltanto però che non ci fu verso neanche di farlo partire Perché era tutto quanto in disordine Completamente rovinato Ma secondo lei quali erano i fattori che ostacolavano L'inserimento lavorativo dei sinti all'epoca? Ma i gaci Che cosa? Che vorrebbero che gli zingari lavorassero Sì Ma nessuno si presta a lavorare Ma perché Dato a parte Che lavoro gli dai a Prato? Noi avevamo la possibilità di inventare un lavoro Che era quello di liberare i subbi Della cosa Del telaio Dai il rimanente Dei fili Noi volevamo fare quello Ed era possibile Passare Da tutti i telai Dateci i cosi Il subbi E non vi si riporta pulito Sarebbe stata una cosa meravigliosa Una cosa da semplice Lo fanno Lo facevano i nostri ragazzi Qui in paese Però fallì questo progetto di creazione Di questo laboratorio Si realizzò questo? No perché purtroppo L'ambiente non era adatto Era un ambiente orribile Era rovinato completamente Non ci si fece No a partire Perché Se lui voleva sfidarmi Che non ce l'avrei fatta Io ce l'avrei fatta O mi ce l'avevo fatta A portarla a scuola Ok Di adulti Adulti non c'è speranza Lo zingaro è un libero E' rome Essendo l'uomo E' libero E chi è il nomade? Il nomade è tutta un'altra cosa Che differenza c'è fra zingaro e nomade? Ma senti Da zingaro e nomade c'è una differenza netta Io posso diventare nomade Abbandono la casa e mi metto a cironzolare Ok Va bene Posso ritornare fisso Dentro una casa Posso invece andarmene a zondo sempre Questo è un altro discorso Però Il nomade non è legato a niente Lo zingaro è veramente libero Perché lui oggi è qui e domani Vatta la pesca E parte Parte Non ha legami Provo a pensare Anche al discorso economico Al discorso economico Lo zingaro Quello che c'è lo consuma E poi dopo si arrangia Come? Anche tornando a rubare Ma quando c'è qualcosa lo consuma E poi va alla ricerca ancora Noi i gaci Invece abbiamo un'altra mentalità Noi mettiamo da parte i soldi Anche in banca Lo zingaro non ce lo mette Oggi come oggi sì E' cambiato tante cose Dentro il loro mondo Come anche è peggiorato Anche il loro mondo In che senso? Basta pensare Alla direi Alla violenza che c'è Dentro il mondo zingaro Oggi il mondo zingaro Non è più quello romantico Sotto certi aspetti di ieri Questo è importante Lei ha contatti oggi Con la comunità zingaro? Sì sì Vengono sempre Vengono sempre a cercarmi Vengono Anche così Passando di qui Perché vanno a Manguel O a vendere fiori Fuori c'è un fiore Che me l'hanno lasciato a tutti i costi No 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 Piggialo Piggialo Ma quando parla di violenza Perché lei ha assistito a qualcosa? Lo zingaro è anche violento Anche verbale Sa essere cattivo Però non è che sia cattivo D'altra parte si difendono Da cosa si difendono? Si sta al mondo esterno E com'è questo mondo esterno? Perché il mondo esterno è un mondo che non accetta il zingaro Non lo vuole Perché è tutto il contrario di quello che noi si pensa Noi si pensa a fare quattrini Ad avere potere Ad avere immagine Lo zingaro non gli interessa tutte queste cose qui Quando io ho da mangiare mi basta Perché non gli interessa guadagnare lo zingaro Quando c'è una persona Chi ha meno capacità all'interno del clan Diventa la persona centrale Lo rispettano Lo servono anche Io ricorderò sempre Quello zingaro che non aveva più le gambe Si lo rispettavano Lo servivano anche Le preoccupazioni se le portavano sempre dietro Ogni volta che si spostavano Però non c'è da pensare Che fosse Che fosse servito dal clan Era rispettato Era aiutato Veniva anche Direi Gli venivano forniti dei mezzi Di più un cervello Però lui Ecco Se prende un altro aspetto Un'altra cosa importante Dentro il circo I buffoni I clown I clown È una persona Molto spesso è una persona Che ha meno capacità dell'altro Ha dei problemi E ci sono altri aspetti positivi E gli fanno fare il crown Oltre alla solidarietà Quali sono gli altri aspetti positivi Della cultura sinta Oltre alla solidarietà Oltre alla solidarietà Beh ora Cominci Credo ci sia anche Si possa anche parlare Direi Di rispetto della coppia Della vita di coppia Perché in certi momenti Quando lo zingano Uno dei due È in carcere L'altro è libero Però quando torna Rientra dentro La sua casa Dentro la famiglia Ecco Devi decidere O decidi O ti si fa decidere Cosa significa? Perché gli era Anche addirittura Direi Metterlo Di fronte al pericolo Questo Io ricorderò sempre Una zingara Abruzzese Mi telefonò La polizia Di notte E mi disse Dice guarda Nella zona Periferia di Prato Hanno trovato Una donna In mezzo a un campo Era Abruzzese Perché era vestita Di nero Il vestito loro L'avevano Sarificata Nel senso della parola Cioè L'avevano Praticamente L'avevano Rotto Il bacino E le gambe Non le braccia Era una punizione Esemplare Qual era la colpa? Non aveva scelto Se tornare Oppure se guidava A giocare Il marito Era in carcere Quindi? Lui Tornato Dal carcere Ha trovato La sua donna Che Giocava Un'altra persona A quel punto Tutto il clan Collaborava poi Perché La vita di famiglia Il clan Direi proprio La famiglia Il valore Della famiglia È profondamente Vissuto Dal clan Questo sì Facendo un passo indietro Quindi lei mi ha detto Che ha conosciuto La realtà Sinterom Lei entra in contatto Con un parroco Di Luca Luca Sì Di Luca Che mi ha chiesto A Luca c'era già una laciotroma? Sì Lui aveva già la scuola L'aciotroma E lui mi chiese Era in un ambiente Estremamente piccolo Era il boario Il mercato boario Della zona Con una piccola Torricella All'ingresso Va bene Ed era quella La scuola Che il comune E l'ambiente Scuola Che il comune Aveva prestato Comunque Lui mi aiutò A mettersi Sulla scuola Qui eccetera Quando E il corso Quando venne Mi chiese Dice Guarda Io da Lucca Devo venire Conosco una famiglia Che si sposta Qui a Prato Ci hanno una donna Anziana Che vuole fare la comunione Primo venerdì del mese Mi dice Può andare Te per favore E io Volentieri L'occasione buona Per capire Chi sono E abbi La porta aperta Nel senso E chi incontrò Una comunità di sinti O di Roma Questa della comunione Chi era Era una Una sinta Una sinta Si ricorda il nome? No Mi ricordo Ricordo Il nipote Che gli ha avuto Una storia difficilissima Ogni tanto Lo vedo Compare Eccetera Ma Non mi ricordo Il nome E che ricordo Hai di quell'incontro? Ma bello Normale Questa donna Che fece la comunione Come la facevano Le persone anziane Del paese Che andava a trovare Ugualmente E per me Ecco Fu una Un'esperienza Bella Perché Non era facile E dove vivevano Le comunità In quel periodo? Un po' Da tutte le parti Di Prato Erano tante 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 Erano Qui a Santa Lucia C'era Dove ora C'è la scuola Di che anni Stiamo parlando Da? Gli anni Sessanta Sessantotto Ok 1968 All'incirca Sessanta Quindi c'erano In zona Santa Lucia In Santa Lucia Poi Erano In zona Chiesa Nova Vicino A un Costo Vicino A un Cinema Nella zona Dove ora C'è il mercato C'era L'officina C'è ancora L'officina Ci stavano Alcune Poi Nella zona Di Oste Dove Cittavano Giovanni Satori Tutella Vandalì Chi era Giovanni Satori? Giovanni Satori È un uomo interessante Perché aveva una sensibilità anche artistica Tant'è vero che poi dopo di lui si riuscì a farla sviluppare anche al suo figliolo Giovanni Avevano un nome sinto loro? Satori Beh In comunità come era conosciuto? Satori 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 Giovanni E lui era il vecchio di casa Il figliolo di Adam Giovanni Calo Che diventò anche lui artista Ed era forse più artista del babbo E nella scuola di Lasciodrome C'erano i quadri di Satori Giovanni Una Madonna con un bambino Poi ce lo portò anche un altro quadro Un quadro in seguito Ancora Giovanni Poi ce lo portò anche il suo figliolo Calo E a quel punto nacque l'idea Di vedere se c'è l'avverso Di fare una mostra Una mostra d'arte zingara E fu accolta volentieri L'idea dai cosi Fu accolta volentieri l'idea Dalle comune Che ci favorì moltissimo Intanto noi avevamo già fatto Due convegni In comune di Prato ad esempio Che convegni erano? Parlare degli zingari Parlare degli zingari Come anche nel giornale Sulla nazione Che giornalista Che veramente veniva spesso A trovarci A trovare ragazzi Perché gli interessava Conoscere questo mondo qui Non è conosciuto Purtroppo non è conosciuto Ecco i presupposti Necessari Con far conoscere Quello che è Lo zingaro È capace di fare Perché lo zingaro Ha arte Ha arte Vede bene Il mondo La natura La descrive Basta pensare Ai quadri di Calo Che sono Parlano soltanto delle cose Parlano soltanto della natura Dove c'è sempre Un elemento Che domina E tutti gli altri Si inseriscono Dentro a questo A questo mondo Uno solo però È emergente Questo deve essere Il loro mondo Insomma ecco Lei l'ha conosciuto E purtroppo è morto Dispiace perché Era un uomo Che meritava E lui faceva quadri Li vendeva Cosa faceva di questi quadri Li vendeva A chi Gli vendeva Ha venduto un quadro A un olefici Quando si fece la mostra Per la mostra Ne aveva fatti una trentina Di quadri Li ha venduto tutti Era bello Avere un quadro di Calo In casa Era un valore Perché la gente L'apprezzava Era un valore Per la comunità Pratese Quindi Gaggi Giusto Sì 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 Ce l'aveva Un assessore Anche Un assessore All'igiene Che ci seguiva Molto Aveva dei lavori Di Calo Poi c'era Insomma Giri Gira Tutti quelli Che si erano messi in mostra Sono spariti tutti Che anno era Quando avete realizzato la mostra Tu mi chiedi troppo 72 può essere? 1972 72 Può darsi Può darsi Può darsi Non ricordo Che problemi avevano in quel periodo Le comunità sinte? Quando lei Mi parlava degli stediamenti Che trovavi in varie pareti Della città Come vivevano? Ma Fra di loro In che luoghi? Che cosa avevano? Fra di loro C'era Comunione Di sentimenti Soltanto Non riusciva A farli Avvicinare Troppo Quando Appartenevano Ad altre Etnie Mi spiega bene Questa cosa Cioè Il mondo zingaro È un mondo diviso Non è un mondo unico A seconda Di dove vengono Con la loro cultura Con la loro Direi tradizione Dalla culinaria A tutti i resti Insomma Ecco Praticamente E Se Lo zingaro Vive Questo mondo Si sente Tranquillo Se si inserisce Invece In un altro clan È uno Uno straniero E quindi Diventava Problematio Anche a scuola Era difficile Avere Gli slavi Va bene E I Ghi casi E osi E sinti O i caldari O i caldari O i caldari Nella laccio Non c'erano Rom e sinti Insieme Sì Da ultimo Sì All'inizio All'inizio è stato Difficile Perché Perché Sono troppo diversi E cosa succedeva E si arrivavano I ragazzi Non ce li volevano Gli altri Che famiglia avevate Che famiglia avevate Di sinti Di sinti avevamo I caldari Sì I risatori Poi avevamo I sinti Emiliani Avevamo Qualcuno Degli Abruzzesi Avevamo I veneti Avevamo I tedeschi Avevamo Gli slavi Gli slavi Però erano Roma Io ricordo sempre Una Una famiglia Erano diverse famiglie Per dire la verità Che venivano Dalla Dalla Gli slavi Quando ci fu La guerra Dei Balcani Che loro Erano preoccupatissimi Perché avevamo Tutti i parenti là E erano Continuamente A domandarmi Le notizie Di là Perché noi Vogliamo Si sentivano Legati a loro Quindi Lei Lei attiva Le lacio drum Come sede Opera nomadi Di Prato Lei era Presidente Dell'Opera Nomadi Di Prato Ma io Sono stato Anche Presidente Di Prato Sì Ma Nello stesso tempo Però Ora se ne parla Perché Forse Anche Tu Troverai Altro Materiale Anche Lì Dove Addirittura Si incominciò A portarli A responsabilizzarsi Del loro mondo E a portarli A sentirsi Responsabili Del mondo Nomadi Si fece Un'associazione Allargata Dove Dove Loro Diventavano Soci Ok E questa è una cosa Meravigliosa Pensare Che io Sono padrone Di me stesso Quindi garantire In qualche modo La partecipazione Dei sinti Si Si faceva Le riunioni Si faceva Venivano Quanto Durano Le laciodroma Prato Da che Anno A che Anno Ma io Penso Che la Sia nata Nel Sessanta Sette Sessanta 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 Sette Sì Fino A settanta Quattro Circa Quando La lice Le torse Di mezzo E Quindi Erano Continuarono Alcune Famiglie A mandare I loro figli A portare I loro figli A scuola Sì Va bene Ma Piano Piano Si spogliò Perché Perché Non ce la facevano A sostenere I ragazzi A scuola Anche perché I ragazzi Erano in conflitto Continuo Con i ragazzi Gaci Quindi Secondo lei Non è stata Un'ottima scelta Cioè Fosse stato per lei Avrebbe continuato Io avrei continuato E forse Piano piano Sarebbe stato Non ho mai pensato Don che Forse era il caso Di risolvere Le problematiche Legate alle difficoltà Abitative Sociali Dei robe Sinche Ma non si può Essere veloce Là dove L'uomo è lento Questo è importante Non sono veloci Gli zingari Va bene Perché non sono veloci Ma perché C'hanno Tutta una storia E superare E superare secoli Di storia Non si fa In cinque minuti Che storia Hanno avuto I sinti Ma Basta pensare Da quando Sono venuti Dall'Oriente Con quanta difficoltà Si sono inseriti Sono riusciti A farsi Direi Riconoscere In qualche modo O rispettare O mettere paura No Lo diga Ma Quando si parla Di educazione Esplicemente Dei ragazzi Ma anche In questo caso Anche degli adulti Anzi Più che altro Degli adulti C'è da Tirare fuori Qualcosa Piano piano Non puoi pensare In cinque minuti In dieci anni Si risolve tutto Non è Assolutamente Lei Come ha partecipato Alle iniziative Educative Che ruolo aveva lei Io Per dire la verità Non avevo nulla Ero prese Che voleva Lavorare E lavoravo Esclusivamente Sul sociale Non ero Sì Ho battezzato Tanti figlioli Perché Gingari L'unica cosa Che fanno Battezzano I figlioli Gli altri sacramenti Non li conoscono C'era Don Mario Dell'altità Di Milano Che lui Aveva soltanto La presenza Religiosa Era veramente Il prese Degli Zingari Non faceva altro Non ci interessava A scuola Nulla Lui viveva Con una campina Dentro Il clan Degli zingari Spostandosi Da un clan All'altro Per cui Gli avvicinava Tutti Conosceva bene La loro lingua Eccetera Eccetera Mi mandò A direttora In Francia A studiare Come erano Organizzati In Francia dove? A Plantegrasse E che cosa c'è A Plantegrasse? A Plantegrasse C'è il villaggio Zingaro Dove Sono tutte Casette Di famiglie Zingare Francesi Che Fanno La raccolta Dei fiori Per le cose Per le L'essenze L'essenze E lei Quindi andò A Plantegrasse A Plantegrasse Andai là E il Comune di Prato Aveva Veramente Sposato In pieno Questo progetto Però Quando si fece Il campo No perché Il campo Ci voleva un terreno E l'unico terreno Che c'era Era In mano Non al Comune E neanche a me Per cui Io dovetti A quel punto Chiesi Ebbi Incontri Con le persone Responsabili Ma Non ebbi La fiducia E allora A quel punto Dovetti Abbandonare 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 Ma I sinti Lo volevano Il campo L'avrebbero voluto Sì L'avrebbero voluto Anche se Il campo È sempre qualcosa Che Sceglie O fa scegliere Cioè Il campo Non è il campo Che abbiamo noi Quando si va al mare Con la rolotta Ci sia un campo Delimitato Ognuno Usce il regolamento Sa quello Come deve E un portastro Per loro No Loro Ci vogliono Loro soli Perché è facile Sbagliare Anche per loro E allora Nascono Dei grossi problemi Pensa A me Girare la testa Per una donna Non è mia facile Io ho tante remore Oppure Qui in mezzo a noi Ci sono Direi Di Accettazioni Di situazioni Anche Compromesse Mentre Il zingalo Non c'è Non c'è Questo Il zingalo È geloso Del suo mondo È geloso Del suo mondo È geloso Della sua donna Tanto più È geloso Del suo bambino Perché È la proprietà La prima proprietà Che l'uomo ha È la famiglia E sono gli affetti Tornando alle classi Che attività Si facevano Per i bambini In quel tempo Qual era la giornata Tipo? Me la puoi descrivere La giornata Tipo? Ma era difficile Perché non è che Ci fosse L'organizzazione Scolastica Io O i miei giovani Andavano a giro Nei campi Che si conoscevano Ci si metteva sempre Un'ora e mezzo O due ore A fare il giro Quindi non si iniziava L'orario fisso Andavano via la mattina Poi magari si cercava E poi magari si cercava Di coinvolgere Di indirizzarsi Verso la scuola Si scariava Il ragazzo Si sapeva E si proseguiva A quell'altra parte Per trovare gli altri E poi si portavano a scuola Si portavano a scuola E cosa facevano Appena arrivavano a scuola Quando la prima cosa Gli facevano Era Insegnargli A scrivere qualcosa A leggere Perché hanno voglia Avevano voglia Di imparare E quando uno zingaro Riusciva a scrivere Il proprio nome Era una festa Perché io sono qualcuno La prima scuola L'avevamo qui a Coiano Nel teatro parrocciare Fu l'unico prete Che ci ha presubito All'idea Poi Da qui Ci trasferimmo A Narnali No A Malisseti A Malisseti In una stanza Della Misericordia Era una stanza Sbratto Ma comunque Si rimise a posto Eccetera A quel punto Il comune Incominciò A sentirsi Responsabile Della scuola E ci chiedeva Di trovare Noi Delle scuole Delle sedi Adatte E abbiamo avuto Sempre delle scuole Veramente belle Però erano sempre Separate dai bambini gaji Non c'è stata mai Una classe In un edificio Frequentato anche Da bambini gaji No No Soltanto quando c'è stato L'inserimento Nelle scuole Normali Allora sì Allora sì Ma fino a quel momento Lì No Perché era un problema Perché era già difficile Anche di etnie diverse Mettete insieme Fra tedeschi Va bene E Emiliani E Emiliani Non è che andasse Tanto d'accordo Dovevamo Ma l'età Dei bambini Che frequentavano L'allaccio drama Era la stessa? Sì Più o meno Sì C'era avuto anche giovani Cioè c'erano bambini Di sei anni Fino a che età? Fino a dieci anni Dodici anni Sì E questo non poteva Creare un problema Cioè mettere un bambino Di sei anni Con uno di tredici Bisogna cercare Di fargli giocare parecchio Ah quindi giocavano Più che imparavano Sì E imparavano Anche a scrivere E' loci Chi li aiutava In questa attività Oltre ai maestri C'era qualcun altro Che li aiutava? C'erano dei giovani Dei volontari? Sì Io avevo Sia qui in parrocchia Sia anche in prato S'ha avuto Dei giovani La Liliana ad esempio Una ragazza Degli scout E poi Si inserì Si ganchò dagli scout Si inserì Nel nostro mondo Poi ce ne furono Anche altri Erano tutte persone Necessarie Per andare a cercare Ragazzi Perché Voglia dire Perdere una mattinata Antera Lei come guarda In generale A quell'esperienza? Ma io la vedo Positiva Lei non pensa Che magari Potevano vivere Qualche difficoltà I sinti A sentirsi Così distanti Dai bambini gagi? Non c'erano bambini sinti Che manifestavano Magari la volontà Di voler integrarsi Con i bambini gagi? No? I sinti no Perché? Ma perché Il sinti Si sente sempre accusato E ordinariamente Positivizzante Alla fine No? Questa cosa D'altra parte E questa è la situazione E soprattutto Ha prodotto Dei successi Scolastici? Cioè Chi è uscito Dall'aciodroma Ha sviluppato Ha raggiunto Dei traguardi Scolastici? Ma diamine perché Se si pensa A tutti quelli Che a Prato Sono ora Diventati Sedentari O hanno Continuato A mandare Il loro figliolo A scuola Sono tutti I figlioli Di quelli Che venivano A scuola All'aciodroma Comunque Lei la guarda Con un'ottica Positiva Quell'esperienza Lì C'è la fine Della All'aciodroma Secondo lei È finito Tutto Per me È positiva Perché se Se veramente Fosse stata Negativa Va bene In qualche modo Si sarebbe A parte La legge Ammazza Ammazza Tutto Perché è morta La scuola Speciale Perché La legge L'ha intervenuta E ha voluto A tutti i costi Eliminare Scuole speciali Io farei L'ultima domanda Che cosa pensa Della situazione Oggi Delle comunità Sinte di Prato Se ancora Contatti Sono contatti Però Direi Contatti Fino a casa mia Sulla porta Di casa mia Non sono mai Sì sono entrato A vedere I quadri Di Carlo Di Giovanni Però Non sono mai Saliti su Anche perché Non gli interessava Per dire La verità Loro Vivevano Il rapporto Con me In funzione Di quello Che era La mia presenza In mezzo a loro Attualmente Non ce l'ho io Mi dispiace Perché Però ci vuole Il tempo libero Non puoi Essere A orario E loro Lo sanno Insomma Quanto bisogno C'è in loro Di un mondo Più facile Più semplice Più Più spontaneo Ho lottato Per tanto tempo Anche dentro Il mio mondo Di Santa Lucia Di Prato Per difendere Quello Che avevamo Fatto E quello Che poi Ho chiuso Perché Se non ci sei Presente Non puoi più Misurare Le tue parole E come vede La società Pratese Come vedeva Il suo avvicinamento Alla comunità Sinta In quegli anni No No Anche Anche Positivamente Se si pensa La polizia Era Sia la polizia Di stato Sia la polizia Municipale E non Collaboravano E lo vedevano Bene Inizialmente No Sul giornale C'era la lotta Il giornalista Va bene E io gli scrivevo E lui mi rispondeva Insomma C'era un dialogo Dove lui Dipendeva Una mentalità E io cercavo Invece Di valorizzare Una presenza E un'azione Cioè Andare in quel mondo Lì vuol dire A un certo punto Sapersi spogliare Di quelle che sono Le tue preoccupazioni Perché sono persone E prima di arrivare A capire Ed essere una persona Ma non perché Tu sei violento Tu sei forte O tu credi D'essere Io sono Rome Io sono Rome Lo dicono Però non ci credo Neanche loro D'essere Speciali E' un modo Di difendersi La scuola Di fatti Se sotto C'è altri aspetti Io ho trasportato La metodologia Didattica Verso gli zingari Nell'ambito Parrocchia Ho valorizzato Al massimo L'istruzione Il sapere Il conoscere L'istruzione 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 Grazie a tutti.